Stefano, innanzitutto bentornato. Hai lasciato questa piazza, questa città, ad inizio campionato la ritrovi in una condizione decisamente differente a quella a cui eri abituato. Che cosa ti ha spinto a tornare qui a terra? Sicuramente il fatto che conosco bene la piazza, conosco i compagni ed era secondo me il posto dove penso di poter rendere meglio. E comunque cambiare squadra a gennaio non è mai facile perché comunque il campionato in corso è tutto e qui penso, conoscendo bene il tutto, di poter fare bene. Ti aspettavi che il termo si trovasse a metà del campionato in questa posizione di classifica? Tu che con il termo hai lavorato quest'estate, con questo gruppo? Ma ti dico, all'inizio stagione pensavamo tutti, penso anche tutti i miei compagni, di poter ambire a qualcosa di più. Poi il campionato purtroppo è andato così, io credo che questa squadra comunque possa fare bene e uscirne nel girone di ritorno e lo spero insomma. Cercherò di dare il mio contributo così come i miei compagni per salvarci tranquillamente. Ti aspettavi qualcosa di più dall'esperienza in Serie B, dall'esperienza latina? Sì, sicuramente è andato un po' così per dei meriti miei, però sono consapevole della scelta che ho fatto, mi rimetto in gioco e vengo qui appunto per dare il meglio di me e cercare di riprovarci magari in futuro. È chiaro che non hai giocato tanto, a che condizione è in questo momento? Stefano Maddio ha 11 giorni dalla ripresa del campionato di fatto. Ma questo non te lo so dire, sicuramente mi sono sempre allenato, non ho avuto grossi problemi, mi mancherà un po' il ritmo partita ma spero di acquisirlo il prima possibile. Visto che hai detto che tornare a Teramo è stata una scelta di cuore, allora vuoi salutare, risalutare di fatto quelli che sono stati i tuoi tifosi che hai abbandonato solo per qualche mese? Come no, io li ringrazio per l'affetto e spero che insieme possiamo salvarci tranquillamente.